siamo in nove c'è un tizio avanti a noi oh oh un pullo per terra davanti a te fuck non sono ancora dentro ok curati curati no sono morto da dove con la vp lascia stare io non ho no e non ho roba per curarmi tu vai nella zona bianca buttati nel fiume non è un fiume è una strada arbustino arbustino ma che arbusto nella casa morirò nell'arbusto morto nell'arbusto la sinistra ecco la madonna porta 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 aspetta no guarda sinistra lì spara 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 jajajaja no me aviento no no spara 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 para nooo nooooo eri uno contro otro eh Grazie.